Ciao, nuovo video, oggi video prove su strada e utilizzerò questo set della Lidl. Sulla parte retro ci sono le istruzioni e ho fotocopiato i cartamodelli in modo da non rovinarli. Provvedo ovviamente a ritagliare il tutto e a riportare i cartamodelli sulla carta che ho scelto sempre all'interno del kit. Ora provvedo a fare le varie piegature. Ho riportato anche la tarviettina su questo cartoncino e provvedo anche a ricreare i furi. Poi ho deciso di applicare questo nastro che era sempre compreso nel kit con della colla a stick. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ho deciso poi di aggiungere un sacchettino di plastica per metterci dei cioccolatini. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Stessa cosa ho deciso di fare con l'altro progetto. Quindi in pratica sto realizzando una scatolina. Ho sempre fotocopiato i modellini e li ho ritagliati. ovviamente riportando il tutto su dei cartoncini sempre inclusi nel kit. Grazie a tutti! 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 Ora proverò a realizzare l'altro progetto. Questo è un bigliettino di auguri. Ora sto riportando le misure che ho trovato sul foglietto delle istruzioni. Ovviamente va tutto ritagliato e poi vanno riportate su il cartoncino tutte le forme che ho fotocopiato dal cartamodello. carta modello carta modello carta modello Grazie a tutti. 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 Poi ho deciso di applicare degli stickers che erano sempre inclusi nel kit. Sono questi carinissimi fiorillini. Per decorare un pochino all'interno ho deciso di applicare dei pezzi di cartoncino sul rosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco fatto. Spero che questo video possa esservi stato utile in qualche modo. Spero che questi piccoli progettini vi siano piaciuti. E se trovate alla Lidl questo kit sapete più o meno cosa aspettarvi. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!